6 abitudini mattutine in 6 minuti al mattino per iniziare al meglio la tua giornata. Visualizzazioni 30. Routine mattutina miracolosa in 6 abitudini salutari da fare in 6 minuti dopo il tuo risveglio al mattino per iniziare la tua giornata al meglio ed avere una vita migliore e salutare. Da provare. Provare. 6 abitudini da fare ogni mattina per migliorare l'intera giornata. Minuto 1. Silenzio. Minuto 1. Silenzio al mattino. Mi siedo in silenzio e dico una parola di preghiera per apprezzare il momento e ringraziare Dio per la bontà della mia vita. Ho letto un versetto quotidiano sull'app KJV della Sacra Bibbia. Come assistente sociale, la tua giornata può essere piena zeppa di visite, telefonate ed emergenze. Questo può farti sentire sommerso. Tuttavia, puoi migliorare la tua giornata non precipitandoti in una giornata frenetica al mattino. Trascorri il primo minuto seduto in silenzio o impegnati in una meditazione guidata o non guidata. Perché il silenzio è importante? Impegnarmi in questo minuto di silenzio mi aiuta a trovare la mia pace interiore. Cercare attivamente un po' di pace ha anche alcuni benefici per la salute. Il silenzio può aiutare ad abbassare la pressione sanguigna, farti sentire in pace mentalmente, migliorare la memoria e la cognizione. Minuto 2 – Affermazioni positive Minuto 2 – Affermazioni positive al mattino Le affermazioni aiutano a colpire il livello inconscio della mente. Aiutano le persone a fare cambiamenti importanti nella loro vita. Le affermazioni o le affermazioni positive possono aiutarti a sfidare e superare i pensieri autosabotanti e autolimitanti. Se ripetuti spesso e credendo in essi, può aiutare a fare cambiamenti positivi, duraturi e significativi. Elenco di seguito le mie affermazioni quotidiane come assistente sociale. Li leggo ad alta voce e mi ricordano quanto sono capace, mi dà una sensazione di fiducia e un senso di positività. Esempio di affermazioni positive Sono paziente Sono una persona positiva Sono sano Io sono quello che sono e non voglio essere come nessun altro Io sono abbastanza e do abbastanza Sto migliorando ogni singolo giorno e continuerò a crescere Sono una persona sicura di sé e straordinaria Tutti i miei problemi hanno delle soluzioni e le supero ogni giorno Mi perdono per i miei errori e imparo da essi Metto la mia energia nelle cose che contano per me Sono in pace con me stesso Non nutro rancori nei confronti di nessuno Uso il mio tempo e il mio talento in modo significativo Sono orgoglioso di quello che sono oggi Sono creatività e rimango ispirato dal mondo che mi circonda Mi dedico e prendo attenzione alle cose che contano di più Sono bravissimo ad aiutare gli altri a ispirarli La mia mente è piena di idee brillanti Mi do il permesso di fare ciò che è giusto per me Sto progredendo nella vita e lavoro su me stesso ogni giorno Metto al bando il dubbio su me stesso Imparo ad amarmi ogni giorno Quali sono le buone affermazioni quotidiane? Le buone affermazioni si concentrano sulla mente, sul corpo e sull'anima Esempi sono Mi prendo cura del mio benessere e mi concentro su ciò che conta Il mio passato rimane nel passato e non è un riflesso di chi sono oggi o del mio futuro Mi prendo cura del mio corpo facendo esercizio fisico regolarmente Sono abbastanza intelligente da prendere le mie decisioni Ho il controllo del mio comportamento e di come reagisco agli altri Altri Scelgo la pace e la sanità mentale nella mia vita Sono consapevole di tutto il caos che mi circonda Ma mi elevo al di sopra di loro perché sono forte Le affermazioni funzionano? Se fatte con costanza, le affermazioni positive ci ispirano e ci motivano Inoltre, aiuta a migliorare il nostro benessere mentale Minuto 3 Visualizzazione al mattino Minuto 3 Visualizzazione al mattino Chiudo gli occhi Guardo la mia vision board e visualizzo La mia visualizzazione include i miei obiettivi Come sarà quando li raggiungerò Immagino che la mia giornata sia perfetta Mi immagino mentre mi godo il lavoro Mi immagino sorridere e fare la pausa pranzo Immagino di completare tutto ciò che c'è nella mia lista di cose da fare Fare In qualità di assistente sociale La tua visione rappresenta il punto in cui vuoi arrivare nella tua vita professionale E costituisce la base per il successo Prenditi un po' di tempo per pensare ai tuoi sogni Aspirazioni e desideri nella vita Concediti di creare immagini vivide della tua ultima giornata di lavoro Visualizza con chi lavorerai e le persone che incontrerai Incontrerai Perché la visualizzazione è importante? Quando vedi com'è la tua giornata Puoi sentire come ci si sente e provare quella gioia della giornata fruttuosa e produttiva che hai creato Minuto 4 Minuto 4 Scrittura al mattino Minuto 4 Scrittura al mattino Questo è il momento in cui scrivo le cose per cui sono grato Ciò di cui sono orgoglioso e i risultati finali che mi impegno a creare per la giornata Scrivo circa 10 brevi frasi Perché è importante scrivere? Scrivere mi aiuta a mettermi in uno stato d'animo potenziato, ispirato e fiducioso Scrivere può anche aiutarti a ottenere il controllo delle tue emozioni e migliorare la tua salute mentale Minuto 5 Lettura al mattino Minuto 5 Lettura al mattino Leggo una o due pagine di un libro sullo sviluppo personale o ascolto un libro su Audible Leggere libri di sviluppo personale mi aiuta a imparare strategie di successo e suggerimenti su come migliorare la mia vita Avere una vita migliore ti aiuterà ad aumentare la tua fiducia e ti farà sentire meglio per essere migliore Essere fiduciosi avrà un impatto sul modo in cui ti relazioni con le persone con cui lavori e con coloro che sostieni all'interno della comunità Minuto 6 Esercizio fisico al mattino Minuto 6 Esercizio fisico al mattino Alla fine mi alzo e passo l'ultimo minuto a fare flessioni per 60 secondi Questo aumenta la mia frequenza cardiaca e mi fa sentire pieno di energia Impegnarsi in esercizi ha un profondo impatto positivo sulla tua salute mentale Puoi semplicemente saltare, fare un po' di stretching o camminare per casa al chiuso Chiuso Trovo che impegnarmi nell'esercizio mattutino mi aiuti a sentirmi sveglio durante il giorno e aumenti la mia capacità di rimanere concentrato e vigile Inoltre, aiuta a migliorare il mio umore generale Ragazza che si stira i muscoli stretching mattino Sei abitudini mattutine in 6 minuti al mattino per iniziare al meglio la tua giornata Hai una routine mattutina miracolosa? Come ti fa sentire durante la giornata? Mi piacerebbe condividere le tue opinioni e i tuoi suggerimenti con i miei lettori Quindi commenta gentilmente qui sotto Grazie per la visione